Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questa seconda lezione del modulo di pallavolo per l'anno accademico 2020-2021. Oggi iniziamo il nostro percorso all'interno di quelli che sono realmente i fondamentali di questo sport. Quindi andremo più a lavorare su un discorso di tipo tecnico rispetto a quello generalizzato della scorsa settimana dedicato all'apprendimento e di fatto andiamo un po' più nel dettaglio su quello che può essere un qualcosa di caratterizzante questo sport. Prima però di iniziare volevo anche comunicarvi che la prossima settimana volevo organizzare delle call frontali in maniera da poter discutere insieme di alcune modalità di erogazione del corso e allo stesso tempo cercare di capire quali potrebbero essere dei passi migliorativi, inoltre magari conoscersi di persona e poter anche eventualmente rispondere a dei quesiti che alcuni di voi stanno già ponendo via mail però frontalmente potrebbero essere anche delle domande e appunto dei dubbi che potrebbero essere fugati per altri colleghi di corso che potrebbero avere le stesse problematiche. Quindi sicuramente può essere un momento un po' più interattivo e arricchente per iniziare a inquadrare meglio tutti i vari argomenti. Quindi tenete d'occhio il Moodle dove caricherò il link per poter accedere alle varie video call. Eventualmente cercherò anche di fare delle comunicazioni via mail ai vostri capi corso Nel caso alcuni dei capi corso non mi avessero ancora contattato in via privata per favore provvedete in maniera che così posso comunicare direttamente a corsi separati. Adesso direi che possiamo partire con la nostra lezione e oggi il tema sarà il bagger quindi per parlare di bagger abbiamo la necessità di parlare del concetto di piano di rimbalzo cercheremo di capire la segmentazione del fondamentale quindi come lo costruiamo il treno inferiore che posizioni assume qual è la funzione del corra all'interno di questo gesto e la progressione corretta degli stimoli dell'apprendimento per poi terminare con quelli che sono le tipologie di esercizi che necessita, che è più consono diciamo sostenere per un apprendimento corretto. In particolare quest'ultima parte può essere tranquillamente come al solito traslata su altri sport e su altre aree. Quindi iniziamo a parlare di piano di rimbalzo. Come ci siamo già detti la passata settimana la caratteristica della pallavolo è non solo quella di essere uno sport open skills quindi di fatto uno sport di situazione ma essere anche un lavoro, un gioco sportivo di rimbalzo cioè il pallone deve rimbalzare da componente a componente per poter far sì che l'azione prosegua o eventualmente posso io conquistare il mio punto. In questa slide mostro una racchetta da tennis e una mazza da baseball perché è semplice capire che più il piano di rimbalzo è ampio è più probabile che la pallina, che la palla nel nostro caso, rimbalzi bene. è più difficile colpire una pallina da tennis con la mazza da baseball che non con la racchetta perché la superficie di impatto è più ampia questo è un concetto molto semplice più ho superficie è più probabile che la palla rimbalzi bene più è difficile in funzione di quanto è grande la superficie dell'impatto la stessa cosa è traslabile sul corpo umano quindi dovrò avere la capacità di costruire un piano di rimbalzo nel fondamentale del bagger e se non avete idea di che cosa sia state tranquilli perché vi mostrerò a breve delle immagini come al solito dove descriviamo nel dettaglio qual è il fondamentale in questione dobbiamo essere però in grado di costruire questo piano di rimbalzo costruito con i nostri segmenti colporei per far sì che ci siano più probabilità che la palla rimbalzi in maniera corretta e le azioni possano essere possono proseguire e possano essere diciamo più fruttuose nei confronti della mia squadra fondamentalmente per ottenere questo risultato abbiamo una serie di allineamenti favorevoli che possono influenzare questa posizione nello specifico qui possiamo vedere ho sfrutto l'immagine di un atleta della squadra di quest'anno con cui collaboro che seguo come verbarata atletico per mostrarvi un buonissimo allineamento vedete come il piano è perfettamente esteso e cerca di essere il più ampio possibile come abbiamo visto nella slide precedente dobbiamo formare un piano costante compatto e robusto questo perché costante è inteso come piatto fondamentalmente robusto necessità per per un discorso della qualità del rimbalzo cioè è ovvio che se riesco ad essere opporre un buon sistema di forza per far sì che la palla possa disperdere il meno potenziale elastico possibile allora sicuramente la condizione del rimbalzo sarà ottimale e per questo abbiamo bisogno appunto di un piano dalla superficie costante compatto quindi il più diciamo solido possibile e robusto nella sua capacità di propulsione del pallone stesso ed entrando nel dettaglio notiamo come le spalle cercano in questo caso si nota abbastanza può essere anche più accentuato però il moncone della spalla tende ad essere vicino alla linea dell'orecchio se lo provate anche poi ovviamente potete anche provarlo di fatto da voi su di voi stessi se alzate il trapezio se adducete il trapezio e portate il moncone della spalla verso l'orecchio e accompagnate la posizione leggermente cifotica anche più accentuata si può tenere in questa condizione della schiena noterete come le braccia si avvicinano più agevolmente questo farà sì che la superficie sia più costante offrirà di fatto l'idea di una superficie più ampia dove far rimbalzare la palla ci avviciniamo più all'idea della racchetta da tennis che a quella della mazza da baseball quindi abbiamo detto spalle quindi il moncone della spalla all'orecchio trapezio addotto schiena cifotica i gomiti dovrebbero essere estesi il più possibile in maniera appunto rispettando comunque quello che è il valgismo naturale del gomito stesso che quindi è leggermente divergente rispetto alla linea del tronco però sicuramente più vicini possibili tra di loro e più estesi possibili tra di loro e in ultima istanza la posizione dei polsi vedete come allora intanto normalmente la mano più forte tiene la mano più debole appunto sempre per conferire più solidità al sistema e poi alla stessa alla stessa maniera cerca di estendere completamente la linea dei polsi ok quindi cercare di allungare il più possibile l'avambraccio quindi abbassare il più possibile da questa posizione che vedete in fotografia le dita verso il terreno quindi aprire il più possibile la posizione dei polsi sempre per avvicinare la condizione dell'avambraccio se provate anche da voi su voi stessi capirete che questo tipo di condizione favorisce il piano di rimbalzo stesso lo rende più costante lo rende più ampio lo rende appunto di fatto più adatto a ricevere un rimbalzo se guardiamo complessivamente l'angolo descritto tra i segmenti del treno superiore e il tronco notiamo che siamo verso i 90 gradi ok quindi non dobbiamo abbassare troppo la linea delle mani perché poi sarà il busto con la sua inclinazione a determinare l'uscita della traiettoria della palla quindi più il busto sarà inclinato per avanti più la palla avrà delle traiettorie tese più il busto avrà una condizione stesa più la palla avrà un rimbalzo verso l'alto passiamo passiamo oltre e iniziamo a visionare come vengono disposte le caviglie e le ginocchia questo diventerà fondamentale perché presto capiremo come la spinta del fondamentale derivi dal treno inferiore quindi seppur siano le braccia a impattare il pallone la spinta propulsiva del pallone stesso arriva dal treno inferiore e per far questo abbiamo bisogno di capire due concetti fondamentali uno la posizione della caviglia quindi dell'articolazione tibiotarsica che ha una condizione di posizionamento sull'avampiede la posizione di sull'avampiede ci permette di portare in condizioni di stretch quello che è il tendine achilleo il tendine achilleo che come dovreste sapere probabilmente avete già studiato in anatomia inserisce sulla faccia posteriore del calcagno quindi profondamente diciamo volgarmente sotto il tallone questa posizione sull'avampiede fa sì che si crei una tensione immaginate che questo tallone sia più in basso più lo spingo verso il basso più porto in allungamento in stretch il tendine achilleo che come fosse un arco restituirà forza propulsiva forza potenziale quindi di fatto se io tendo l'arco del tendine achilleo avrò un effetto molla ok quindi il tirare portare il piede il peso sull'avampiede di fatto serve per essere più reattivi e più pronti ad uscire dalle posizioni per questo effetto molla creato dal tendine achilleo ovviamente poi collegato a quella che è la volta a plantare che a sua volta è una delle componenti più tendine del piede che restituisce un quoziente di rimbalzo efficiente per muoversi in maniera più rapida ok di fatto cosa succede se noi teniamo la posizione sull'avampiede è un po' come se rimbalzassimo lasciatemi passare questo termine più tiriamo il tendine achilleo più la risposta elastica sarà efficiente e avremo delle risposte priometriche più rapide e saremo più in grado di spostarci in maniera pronta reattiva ed efficiente parlando di treno inferiore ovviamente dobbiamo prendere in considerazione anche l'allineamento delle ginocchia che sono flesse a diversi angoli e hanno motivo di essere flesse a diversi angoli per appunto esigenze differenti in prima istanza per abbassare il baricentro perché se io abbasso il baricentro del corpo ho più facilità di movimento ok questo è una legge fisica perché logicamente più abbasso il baricentro del mio corpo qui più fletto le mie ginocchia più il mio corpo è disposto a lavorare in maniera pronta reattiva le leve si accorciano accorciando le leve posso per legge fisica esprimere più forza nell'unità di tempo flettendo le ginocchia sono in grado appunto di spingere il pallone nel caso ne abbiano la necessità la spinta del pallone come si diceva prima nel fondamentale deriva dal treno inferiore il nostro punto d'impatto la nostra racchetta sono le braccia ma la spinta è portata dalle gambe sempre dalle gambe quindi se le caviglie ci fanno spostare per arrivare nel punto di impatto corretto e per ottimizzare lo spostamento bisogna stare sull'avantiede le ginocchia flesse ci permetteranno di spingere il pallone e portare il pallone dove lo vogliamo spingere dove lo vogliamo portare applicando quello che è stato il tema della prima lezione quindi la capacità di discriminazione cinestetica cioè la capacità di applicare la forza giusta al pallone per fargli eseguire il compito che desideriamo se abbiamo poi le ginocchia più basse quindi più flesse un angolo più chiuso abbiamo più tempo per organizzare il nostro fondamentale prima che arrivi la palla colpita dal nostro avversario questo perché perché più distanzio il punto di impatto che normalmente dovrà superare la rete quindi necessariamente dovrà passare al di sopra del nastro alto della rete per arrivare nel mio campo e più io mi schiaccio verso il pavimento più dilaterò questo spazio di impatto quindi più la distanza è lunga ovviamente quindi immaginiamo l'attaccante avversario che possa attaccare dall'alto verso il basso il pallone più io sono flesso più il punto di impatto dell'attaccante che sta schiacciando rispetto al punto di di impatto con il mio bagger sarà dilatato più avrò tempo per muovermi e per organizzarmi passiamo a vedere qualche immagine e un po' di didattica e sfruttiamo i bambini perché poi alla fine sono una delle componenti più interessanti alcuni esercizi per iniziare ad abituare i giovani atleti a sia mantenere l'allineamento delle braccia estese per avanti sia il peso sull'avampiede quindi abbiamo sia un discorso di propulsione sia quindi appunto le caviglie vedete come necessariamente debbano essere in spinta sull'avampiede sia la pressione del ginocchio in uno stato ancora diciamo più funzionale a quello che poi è l'obiettivo finale con le braccia protese per avanti mantenere poi in più il pallone in mano ci fa sempre vi ricordo ascoltare il peso del pallone stesso che sarà sempre comunque un valore aggiunto perché anche i bambini riescano a capire qual è il peso del pallone il derma è un recettore quindi avere la palla in mano ci permette di avere una condizione ideale di quello che è il peso stesso della palla e qui invece andiamo su una fase un po' più evoluta cosa succede iniziamo in una fase estremamente analitica dove la palla arriva per avanti ovviamente ogni tanto la proposta non è eccellente perché i bimbi ovviamente non hanno così la capacità di lanciare perfettamente il pallone però ovviamente guardate come la giovane atleta ha comunque una buona fase in spinta se vogliamo riguardiamola dall'inizio potrebbe avere un po' più il tallone sollevato vedete come è molto appoggiata sul tallone della gamba avanti in spinta se vogliamo potrebbe avere una propulsione leggermente più spostata verso quello che è l'avampiede come si è detto però allo stesso tempo l'allineamento del treno superiore è molto molto positivo rispetto alla linea del busto circa 90 gradi braccia belle estese anche i polsi hanno una buona condizione le spalle sono cifotiche soprattutto vedete come il piano di rimbalzo può essere costante e mantenuto qui parliamo di ragazzine dell'under 10 quindi abbiamo già direi dei buonissimi prospetti e qui di fatto iniziamo a intraprendere alcuni dei fondamentali del treno inferiore anche se poi correlati poi sempre al discorso di piano di rimbalzo che abbiamo già già accennato in precedenza proseguiamo in questa carrellata e iniziamo a capire come se nella prima proposta la palla arriva direttamente davanti alla linea dell'esecutore della piccola della giovane atleta che colpisce in questa nuova proposta di livello superiore inseriamo una un minimo di spostamento la proposta è sicuramente per avanti quindi la giovane atleta sa che dovrà andare in avanti però non sa né quando né dove perfettamente cadrà la palla quindi dovrà organizzare il suo spostamento per arrivare con l'arresto corretto per avanti e soprattutto con l'allineamento corretto delle braccia per avere una buona distanza vedete come in questo caso scusatemi ritorni indietro eccoci qua vedete come in molti casi questo per esempio questo eeeh porca scusatemi allora dicevamo questo scusate un attimino che torniamo indietro perché mi ho perso il punto sono piccole il video è molto più lungo come potete vedere ho preso soltanto un estratto però non sempre riusciamo ad attivizzare allora dicevamo questo anche se non si vede nel dettaglio ha una buona posizione vedete come sicuramente anche se i piedi sono con i talloni appoggiati al pavimento ha una buona distanza probabilmente la ipotizziamo per avanti non si vede perfettamente però la possiamo ipotizzare se guardate questo vedete subito quale sia la difficoltà già da parte del giovane atleta di calcolare bene la traiettoria su cui interfacciarsi qui intanto dobbiamo già capire appunto come passare da una situazione di situazione perfettamente stabile ferma immobile come abbiamo visto in questo frangente qui quindi dove la palla arriverà già lì a una situazione dove non sappiamo dove arriverà la palla e devo inserire lo spostamento già mi fa variare la capacità del sistema di calcolare la traiettoria in profondità quindi già capiamo come sicuramente vedete come poi cercano ancora anche l'istruttrice di fargli enfatizzare il movimento di piedi per non rimanere fisse e immobili sulla posizione di partenza quindi quel tambureggiare dei piedi quello skate basso proposto è sicuramente per attivare il più possibile le caviglie e cercare di riproporre quell'idea di risposta pliometrica del tendine achilleo di cui vi parlavo un poc'anzi ma vedete subito come se la proposta è perfettamente all'interno del cono del corpo il bambino ha più facilità nel organizzare il fondamentale se deve abbinarlo a una condizione di spostamento la velocità che necessita di calcolare la traiettoria di organizzare l'arresto di organizzare il fondamentale peggiora l'esecuzione e come abbiamo visto in precedenza fa spesso sbagliare il posizionamento che inficia l'allineamento del nostro piano di rimbalzo e che probabilmente se dovessimo proseguire con l'impatto del pallone stesso e non col bloccaggio come nell'esecuzione che vi ho appena mostrato probabilmente porterebbe a un rimbalzo infelice vediamo invece ancora quest'altra esercitazione dove viene organizzato un piano di rimbalzo e indirizzato verso un piccolo spostamento verso destra e verso sinistra qui vedete che ogni tanto le deviazioni portano a qualche piccolo incidente però l'idea è questa vedete come già organizzare questo tipo di lavoro con un piano di rimbalzo laterale seppur autogestito dall'atleta con il corretto allineamento del treno superiore delle spalle dei gomiti dei polsi oltre a far spostare leggermente il pallone a destra e a sinistra già significa andare verso un principio di tecnica di livello superiore perché non solo devo essere in grado di indirizzare il pallone ma anche di spostarlo all'interno dello spazio e in questo caso per esempio abbiamo una un'altezza abbastanza costante dei rimbalzi come avete potuto vedere come avete potuto vedere i rimbalzi sono abbastanza costanti e abbastanza diciamo alla stessa altezza e lo spostamento verso destra e verso sinistra se immaginate questi rimbalzi più alti più ampi oppure ad altezze diverse capirete come bisogna applicare una forza differente alla spinta delle gambe e in quel frangente ovviamente viene ulteriormente aumentato la richiesta tecnica abbinata a quella che poi è la la componente tra virgolette condizionale quindi della forza quanto forte spingo il pallone più il pallone assume traiettorie ampie più è difficile da essere controllato perché logicamente dovrò essere in grado di calcolare con maggiore qualità il le traiettorie che arrivano appunto da altezze diverse profondità diverse e quindi il mio cervello dovrà essere in grado di descrivere in maniera più approfondita e discriminare in maniera più approfondita per poter organizzare al meglio il fondamentale per poi e questo è un concetto fondamentale per ogni tipo di sport per parlare di sport di situazione non possiamo transigere dal concetto di core e che cosa serve il core all'interno di un gesto complesso un fondamentale complesso in prima istanza a trasdurre la forza dal treno inferiore a quello superiore come ci siamo già detti e ripetuti mille volte la spinta del pallone arriva dalle gambe però il rimbalzo avviene sulle braccia se il centro non fosse solido non permetterebbe di portare quella che è la spinta delle gambe appunto al piano di rimbalzo stesso se fossimo tra virgolette dei budini in mezzo al corpo quindi con la parete addominale morbida con gli erettori spinali non attivi con gli obliqui scarichi con tutte le componenti che collegano e stabilizzano la parte del bacino in maniera solida e concreta ovviamente parlando anche dei glutei in questo tipo di disamina non parliamo solo di abdominali parliamo di core ad ampio spettro vedete in questa immagine per quanto riguarda sulle catene vediamo anche che ci sono delle componenti che correlano anche la parte glutea qui non parliamo soltanto di core prettamente pressamente stretto come nella prima immagine ma poi parleremo appunto di catene anteriori e posteriori accrociate quindi il core cosa fa? compatta tutto il sistema quindi lo rende più solido oltre a portare la forza dalla parte inferiore a quella superiore e poi logicamente chiamando in causa la catena flessoria la catena estensoria e le catene crociate ci permette di organizzare correttamente quelle che sono le risposte migliori per quello che è la costruzione del nostro fondamentale qui vediamo in una condizione più evoluta meno controllata come negli esempi precedenti come la capacità di trasdurre forza ed essere in grado di allineare il centro su una velocità di palla superiore queste sono sempre le ragazze della mia prima squadra vedete come la capacità di dover organizzare di proprio col centro non è possibile sempre spostarsi con i piedi ma siamo costretti ad organizzare la risposta torcendo il busto immaginate se in questa condizione della prima immagine gli addominali comunque la parete addominale comunque la zona centrale del corpo non fosse attiva il rimbalzo sarebbe del tutto inefficiente e la risposta al fondamentale sarebbe del tutto sbagliata alla stessa maniera anche in questa immagine oppure in questa capite come in questi movimenti in cui la risposta deve essere organizzata in maniera più rapida più repentina la capacità delle catene crociate di intervenire in maniera puntuale diventa determinante per la buona riuscita di quello che è il fondamentale stesso quindi la risultante del rimbalzo del pallone però poi vedete bene sempre che il pallone dovrebbe sempre rimbalzare sul piano di rimbalzo come al solito come si è descritto nella prima immagine quindi come potete vedere in questa immagine pallone che rimbalza sulla zona dell'avambraccio vi ricordo il lavoro della passata settimana di sensibilizzazione dell'avambraccio i polsi che si aprono in maniera da permettere un'extrarotazione in particolare dell'avambraccio stesso quindi del radio ulna in maniera da poter ampliare ancora di più il piano di rimbalzo e poi l'allineamento tra le spalle anche qui si potrebbe leggermente alzare un pochino la condizione della spalla al trapezio ma sicuramente questi sono molto vicini ai 90 gradi descritti in precedenza per quanto riguarda la fase di spinta tutti e tre i bagger scusate tutti e quattro i bagger descritti e visti qui sono nella loro fase conclusiva vedete che le ginocchia e i piedi sono già estesi cioè il ginocchio è già esteso questo perché? perché probabilmente l'impatto è già avvenuto quindi la spinta è già arrivata siamo già nella fase in cui il pallone ha fatto il suo rimbalzo e sta uscendo ok? questo è il motivo per cui le gambe sono già scariche parlando a questo punto di apprendimento rimangono sempre lecite e consolidate quelle regole che abbiamo già accennato nella nostra prima lezione e di fatto abbiamo anche già un po' rivisto nei video che ho organizzato per questa seconda seconda video lezione vedete come l'idea è sempre quella di passare dal semplice al complesso quindi che significa ricordiamoci l'immagine della della bambina che riceve la palla all'interno cioè da ferma con la palla che viene proposta dalla compagna e viene colpita frontalmente sa già che il pallone arriverà a lei frontalmente senza che debba organizzare autonomamente alcun tipo di spostamento si va da una condizione più lenta verso una condizione più rapida quindi cosa significa più la palla sarà tesa e aggressiva più logicamente io dovrò essere rapido ed efficiente da organizzare il mio fondamentale in questo caso ma quello che che sono queste tematiche ovviamente sono riportabili a ogni tipo di insegnamento di fondamentale che non è noi utilizziamo il bagger in questo caso perché ovviamente parliamo del modo di pallavolo del vostro percorso accademico ma se ci pensate riportare questo tipo di impostazione su qualsiasi tipo di fondamentale è assolutamente plausibile e poi dalla condizione nota a quella variata quindi facendo un esempio pratico prima incomincio a far fare bagger unicamente frontalmente io so già dirò espliciterò alle mie piccole atlete ai miei piccoli atleti il fatto che il pallone gli sarà proposto frontalmente e loro dovranno soltanto organizzare il fondamentale e applicarlo al meglio delle loro possibilità in seconda istanza procederò sempre in quella direzione con una proposta magari più aggressiva di traiettoria quindi una palla che non necessariamente arriva più tesa ma anche da più lontano per esempio ci siamo detti che descrivere una traiettoria che arriva da più lontano è più complicato quindi sicuramente già variare la distanza di spinta sulla palla che arriva invece che da un metro due metri di distanza ma da tre quattro metri già amplifica la difficoltà e ovviamente si ritorna sul principio sulla diciamo proposta della prima lezione dove il bambino dovrà o comunque il mini atleta dovrà lavorare sulla capacità di applicare la forza giusta e ovviamente anche con le capacità coordinative anche la discriminazione o quello manuale descrivere quella che è la traiettoria migliore per far arrivare al target il pallone stesso quindi più lo allontano più questo calcolo diventa complesso e poi arrivare nella condizione dal noto al variato che è quella che ci avvicina di fatto alla condizione di gara quindi cosa significa se nella prima esercitazione so che la palla mi arriva addosso se nella seconda esercitazione la palla mi arriva in maniera più tesa o da più lontano nella terza esercitazione la palla può arrivarmi vicino e lontano destra e sinistra distanza maggiore o inferiore organizzare tutti gli stimoli è sicuramente un patrimonio che noi mettiamo a disposizione dei nostri giovani atleti e facciamo sì di creare una serie di pattern di risposta più stabili e più solidi ovviamente bisogna rispettare questi step è inutile che passo allo step successivo sulla condizione da lento al rapido se non ho stabilizzato bene dal semplice quindi se non riesco a fare il bagger addosso è inutile che faccio fare un bagger spostato laterale oppure organizzato con uno spostamento oppure con uno spostamento variato nello spazio questi sono i principi che ci siamo già descritti in condizione della prima lezione stessa se avete dei dubbi sulle falli dell'apprendimento andate a guardarvi la prima lezione poi ovviamente possiamo anche ripeto la prossima settimana come vi dicevo faremo una lezione frontale in maniera da poter fugare alcuni di questi dubbi e se lo immaginate traslato all'interno di qualsiasi altro tipo di sport il calcio benissimo immaginate di dover fare stoppare la palla al bambino prima probabilmente lo farete gli passerete la palla di fronte a lui e il bambino organizzerà lo stop davanti a un metro o due metri da lui nella seconda istanza potrebbe arrivare la palla più forte sempre da un metro o due metri oppure da più distante nella terza potresti fargli fare lo spostamento e l'arresto dopo aver fatto un spostamento organizzato dove tu lo spedisci gli dirai già che andrà direttamente a destra e nell'ultimo caso la variazione dei vari sistemi quindi la palla potrebbe arrivarti a destra potrebbe arrivarti a sinistra tu devi leggere la situazione e eseguire il tuo fondamentale è assolutamente traslabile su qualsiasi tipo di sport noi utilizziamo il bugger perché stiamo facendo questo tipo di percorso e in questo tipo di direzione citiamo anche le varie tipologie di esercizi che passano dal superanalitico che di fatto e alcuni dei lavori che abbiamo visto la settimana scorsa quindi una parte del una parte del corpo coinvolta nel fondamentale quindi cosa significa quando facciamo rimbalzare la palla come nella prima lezione avete visto dalla ragazzina su un unico braccio quello è un esercizio superanalitico cioè una parte del fondamentale chiamata in causa in maniera estremamente specifica e dettagliata per poi passare a una condizione di tipo analitica che possono essere anche gli esercizi che abbiamo visti oggi ad esempio la camminata con le braccia protese avanti delle bimbe nel nostro primo video dove vengo a focalizzare l'attenzione unicamente sulla posizione delle gambe flesse e del del peso sull'avampiede per poi passare a un discorso di tipo sintetico quindi delle esercitazioni dove il fondamentale viene proposto in alcune condizioni diciamo organizzate dove appunto per esempio c'è una traiettoria da leggere dove io mi devo fare dove devo fare il mio spostamento e colpire il pallone dove devo organizzare in maniera più come dire vicina a quello che è il modello di prestazione il il fondamentale stesso e poi abbiamo una fase globale che di fatto sono le condizioni in cui ci avviciniamo di fatto a poi all'inserimento del fondamentale all'interno delle simulazioni di gara ok quindi nel nostro caso nel gioco 6 contro 6 se lo trasliamo su un altro gioco sportivo nel basket alcune condizioni dove i giocatori sono in campo e comunque hanno di fatto da giocare una porzione della gara stessa e per una condizione più evoluta del sistema potete vedere anche come ad esempio su atlete evolute queste sono atlete della serie A che nel loro nella loro fase di riscaldamento fanno proprio già una parte di sensibilizzazione quindi come avete visto la palla passa in mezzo alle gambe delle atlete stesse per poi essere di fatto organizzata e ricevuta col bagger quindi il primo lavoro serviva per ricordarli di fare un buon spostamento per una fase di attivazione e poi qui incomincia delle varie risposte a stimoli non noti una prima palla che gli arriva addosso una seconda palla dopo uno spostamento da organizzare e l'obiettivo è quello di passare la compagna sempre di passare la compagna risposta sotto rete il pallone in maniera più efficiente e ampio possibile vedete che gli allenatori propongono in una direzione abbastanza bloccata quindi abbiamo pallone addosso che proviene da destra e da sinistra e poi pallone dopo lo spostamento che proviene da destra e da sinistra però poi è logico che le proposte sono variate non è che il pallone arriva sempre nella stessa zona arriva anche a altezze diverse forze diverse questo parliamo già di esercizi sintetici di livello medio medio alto questa qui è una fase appunto super diciamo quelle che noi definiamo allenamenti differenziati quelli che chiamiamo special vedete che c'è solo una porzione delle giocatrici ne abbiamo soltanto 4 quelle che sono quelle coinvolte nella fase di ricezione e la proposta prosegue così vedete cambi di traiettoria la destra e la sinistra la movimentazione diventa sempre più difficile in funzione di quello che è la traiettoria della proposta dell'allenatore stesso siamo quindi qui in una condizione sintetica perché le giocatrici sono all'interno del campo e stanno lavorando su una condizione di di gara però ovviamente non siamo ancora in una fase di gioco completa stessa proposta descritta nell'altro nell'altro metacampo vedete come il bugger può essere frontale come in questa condizione all'interno della linea del corpo anche in questo caso sempre frontale oppure leggermente con le braccia che vanno laterali a destra e a sinistra qui la proposta è sbagliata però l'atleta ovviamente organizza il suo spostamento bagger laterale bagger frontale leggermente laterale basso avanti qui per esempio siamo in ritardo palla più tesa palla più ampia capite che dover far fronte a queste divergenze di stimoli sicuramente è una condizione allenante sulla variabilità quindi se guardiamo e se ricordiamo quelle che è il percorso di apprendimento qui siamo ovviamente allo stato più elevato prima di arrivare poi appunto a una proposta di livello globale dove le atlete quindi siamo di fatto su uno stimolo noto verso uno stimolo variato quindi abbiamo di fatto l'inserimento sappiamo che riceveremo due palloni da destra e due palloni da sinistra però il pallone potrebbe arrivare più a destra più a sinistra con una traiettoria più tesa o più ampia e io dovrò organizzare la mia condizione di risposta in maniera più adeguata con questo per oggi direi che abbiamo messo sufficiente carne al fuoco vi invito a iniziare a segnarvi delle domande iniziare a visionare attentamente quelli che sono le proposte che poi ovviamente saranno oggetto di esame iniziare a fugare quelli che sono i vostri dubbi chiedendo senza alcun tipo di problema e ovviamente come vi ho già detto all'inizio di questo video l'idea è quella di proporre la prossima settimana una lezione frontale dove iniziare a a esplicitare quelli che potrebbero essere alcune alcuni discorsi e magari appunto a fare anche ulteriori approfondimenti su quello che è il il tema i temi che per adesso stiamo stiamo trattando in via abbastanza generale superficiale per poter poi approfondirli e di fatto capire anche quelle che potrebbero essere le mie richieste per voi durante poi le valutazioni d'esame ok quindi ripeto massima massima tranquillità nel chiedere le cose e ovviamente conscio assolutamente che c'è una difficoltà in questa modalità distanza però l'idea è quella di potervi proporre del materiale che voi potete revisionare più volte prendere i vostri appunti poter appunto riguardare rileggere tante volte questo video quello che vi necessita per stabilizzare per bene le vostre conoscenze però allo stesso tempo puoi avere anche una condizione frontale dove possiamo interfacciarci e di fatto rispondere a quelle che potrebbero essere i vostri quesiti ok quindi rinnovo il mio invito se non l'avete già fatto a scrivervi alla pagina dell'insegnamento dove lasciare la mail di iscrizione in maniera che io abbia tutti i nominativi dei partecipanti e vi posso eventualmente già girare anche lì il link per la per le video call della prossima settimana se avete già delle domande scrivetemi una mail in maniera che così io magari posso già organizzare delle risposte e la prossima settimana facciamo un punto della situazione frontale per poter organizzare al meglio quello che è la linea diciamo didattica di questo di questo corso io intanto vi ringrazio vi saluto e ci aggiorniamo alla prossima settimana buon lavoro e buono studio